Nell'ambito della finanziaria regionale l'Assemblea ha stanziato 30 milioni di euro per il finanziamento del Fondo di Solidarietà della Pesca e dell'Acqua Cultura. Ascoltiamo in proposito il segretario regionale dell'UGL Giuseppe Messina in collegamento con Luisa Miciche. È stato un risultato importante quello raggiunto dalla nostra organizzazione sindacale perché nei giorni scorsi l'Assemblea regionale ha varato la norma che finanzia 30 milioni di euro agli equipaggi della pesca e alle imprese del settore ittico anche in forma cooperativa e autonoma ed è un grande risultato che abbiamo raggiunto. L'Assemblea regionale ha approvato all'unanimità questo comma 14 contenuto nell'articolo 8, il ringraziamento va al governo che inizialmente aveva postato 10 milioni di euro, quindi al Presidente della Regione Musumece, all'Assessore di Bandiera e a tutta la Giunta, ma il ringraziamento va anche alla compagine parlamentare di maggioranza e di opposizione all'Assemblea regionale che hanno votato all'unanimità questo comma, dando dimostrazione di sensibilità verso un settore strategico quale è quello della pesca. Un particolare ringraziamento ai deputati Tancredi e Mangiacavallo che hanno sostenuto il nostro remendamento, la nostra richiesta, la nostra formulazione, prima in Commissione bilancio e poi in aula, in sede di riscrittura. Il applauso va a loro come va a tutti i parlamentari che hanno dimostrato vicinanza a questo mondo che noi continueremo a sostenere. La parola passa adesso all'atto amministrativo, abbiamo già sollecitato l'Assessore Bandiera a porre in essere tutti quegli strumenti che servono, partendo dalla individuazione dei criteri e poi alla fase della ripartizione. L'emergenza impone deroghe ai tempi burocratici e celerità perché così possano arrivare prima possibile il ristoro agli equipaggi della pesca e agli armatori.